Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Enrico Niggiotti, papà innamorato dei suoi gemellini suona e canta per loro una ninna nanna meravigliosa, il video è emozionante Ex allievo d'amici e oggi tra i cantanti più promettenti della musica italiana, Enrico Niggiotti ha un vasto seguito su social L'artista toscano è diventato papà solo da qualche mese di due splendidi gemelli, Maso e Duccio Niggiotti è legato da circa cinque anni a Giulia, che è un insegnante di ballo I due sono molto affiatati e in questo momento si stanno godendo i loro piccoli In particolare l'artista livornese, che solitamente è molto riservato, ha deciso di condividere la magia della paternità con i suoi fans Che non possono che sostenerlo Sin dalla loro nascita, ma anche durante la dolce attesa di Giulia, Enrico ha condiviso la sua passione per la musica con i piccoli In più occasioni ha cantato per loro e ha creato delle vere ninna nanna I due gemellini sono molto attenti quando il papà canta, si rilassano e lo ascoltano con interesse Ora che hanno poco più di sei mesi sono ancora più incantati Nei giorni scorsi Niggiotti ha condiviso l'ennesima ballata dedicata ai piccoli Maso e Duccio sdraiati nel box ascoltano il papà che improvvisa un live solo per loro Un concerto privato che l'ex allievo d'amici ha deciso di mostrare su social Le immagini sono davvero uniche e non possono non essere condivise Il cantante livornese ha ricevuto tantissimi like, commenti e coricini Molti fans hanno chiesto al giovane artista quando tornerà sul palco Vista la magia delle sue ninne nanna Enrico starà sicuramente dando vita ad un nuovo album Quando ha saputo che sarebbe diventato padre, l'ex allievo d'amici ha condiviso la prima ecografia dei piccoli Ha fatto loro una dedica speciale, è tutto un conto alla rovescia verso di voi Mentre crescete dentro mamma io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino Enrico Niggiotti, la ballata soave per i gemellini Ninna nanna amore mio che ti addormenti sempre Questa la didascalia che accompagna le immagini davvero emozionanti I due piccoli guardano il padre incantati La melodia e il testo scelti da Niggiotti sono davvero magiche e i fans non hanno potuto non complimentarsi con lui La dolcezza unica, guarda come ti guardano, ha scritto un utente E ancora, la dolcezza della tua voce ha stregato prima loro e adesso noi C'è da dire che la ballata dell'ex allievo d'amici è davvero molto bella, e conquista al primo ascolto Ne sono entusiasti anche Maso e Duccio che non riescono a staccare il loro sguardo dal dolcissimo papà che gli dedica molto del suo tempo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video